Lunedì 12 settembre ci sarà il rientro scolastico, particolare attenzione qui nel comune di Roseto degli Abruzzi, Assessore Francesco Luciani, lo hanno ovviamente le scuole e primarie perché quest'anno potrebbe crescere il numero delle presenze anche a causa, dovuto al numero dei minori ucraini presenti nel nostro territorio. Sì, siamo pronti a riniziare, sarà un anno scolastico importante, vogliamo che sia il tutto, possa iniziare senza problemi, senza frizioni per i genitori, abbiamo cambiato le modalità di iscrizione al trasporto scolastico, abbiamo tanti piani in programma anche per le manutenzioni su Santa Lucia, sulla scuola Maria Schiazza, adesso si tratta solo di riniziare, di anche avere un costante rapporto con le scuole e i dirigenti scolastici. Ecco, ci sono stati anche dei lavori di manutenzione su gran parte degli edifici scolastici. Sì, è una delle nostre priorità, ci siamo dati da fare per aggiudicarci degli importanti bandi del PNRR, sapete, per la scuola Romani, ma anche per l'asilo Marielle Ventre, per la mensa nella scuola di Santa Petronilla. Ora abbiamo stanziato altri 130.000 euro per le manutenzioni delle scuole, è per noi una priorità e lo sarà per tutti e cinque gli anni.